Ah ma io vedo qualcuno che fa l'urcherino Allora Salve amici Siete pronti per questa doppia live Are you ready for Ah Mel non è ancora arrivata Mel è un po' una culetta Ma voi vedete il mouse In omori L'ho vista adesso Ah Perfetto Vabbè Mi lasciate veramente da sola in questo gioco In questo sabato sera Io un po' piango ve lo dico Ve lo dico Dove siete Cari per favore Venite a supportare Ah Oh Così almeno Mel vede addirittura due messaggi Se ne renderà conto di chi le sta scrivendo Probabilmente no Va bene Il mio nome è su telegram Vabbè iniziamo Hola Artyom Viva non sono da sola Ok grande Artyom sono felice io non sono da sola Allora grazie perché c'ho l'ansia Ristoro ora la notifica Ok ok no no va bene vai trans Grazie come va in ansia No allora sono felice Outside Outside o more Sono felice perché domani vedo BF E il canetto E il fratello del BF Quindi sono felice BF E per il resto mi sto un po' cacando Perché Mel mi ha detto che Ora staranno per succedere robe Che mi faranno piangere dalla paura E piangere dalla tristeza Andiamo la giochetta Comunque credo che non ci sia niente di più Che spavento madre Sì va bene Iniziamo bene Iniziamo bene questa serata Dove I'll shit my pants Vabbè Dicevo Prima di essere invasa Da mia madre Che Ma non ci credo Eh scusatemi Adesso Prima di essere invasa Prima di essere invasa Iniziamo bene Grazie a tutti. 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 Oh, we were here. Ok, mi caccherei anche io dannato a scopoci... Ok, so... Non ho detto... Ok, so... Ok, so... Ok, so... Ehm... 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 A Rocket League... Però... La porta... Esatto... Ehm... Ehm... Possiamo... Ehm... Adesso vi copino... Adesso... Ehm... 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 Ecco perché non ci fa entrare! Perché la mamma sta facendo tutto a posto e non vuole andare... Anche se... Ehm... Sono felice di vederlo ogni volta che torno indietro... Ehm... La prima cosa è che... Egitto una casa. La prima cosa che facciamo è... Misurarci in altezza. Però la musica non sta tornando. I'm getting anxious. quest'anno è l'anno that I'm finally gonna be taught ok è l'anno in cui sarò più alto I can't fill it in my bones oh no is that a pun? is that a pun? secondo me è da considerare un gioco di parole? probabilmente sei molto amicini ok la famiglia è importante hey munch munch what you do in basil for the amnesagino? gliel'ho dato io ho pensato potessi saperelo oh davvero? davvero fico da parte tua ha senso specialmente ora che Gino se ne va cosa? Gino se ne va? eh si pensavo gliel'avessi detto ah no pensavo io gliel'avessi detto gliel'avessi detto l'ho dimenticato munch 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 si trasferirà in tre giorni giusto? penso giusto sorry I thought you were in you oh no me lo so perché così? via lui sono verso scusa eh posso essere posso essere scusata devo andare al bagno oh no autoresia appresionismo cosa succede? beh ecco quando bisogna andare bisogna andare andiamo a vedere come sta andiamo a vedere come sta intanto salviamo intanto salviamo si grazie non farò più come ieri non era ieri l'altro bagno io vado subito in bagno sto che è lì tutto oh no 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 amici oh no tutto andrà bene tutto andrà bene tutto andrà bene tutto andrà bene ah sei tu vicino la fatta che nel disegno abbia gli occhi così e nel cioè nel nel gioco abbia gli occhi così e lì abbia gli occhi chiusi così mi inquieta ancora di più io sto mi sto caccando sotto amici ve lo dico tutto questo per colpa di Mel e Mel non c'è che fra l'altro questa ombra qua c'è anche all'inizio quando c'è il primo jumpscare I think I remember correctly carina scema carina scema o carina scema sì che altrimenti arriva male e succederò sì che altrimenti arriva male e succederò eh eh non succede cioè succede senza che arriva male vabbè ah sei tu cino sei qui sono felice cena ah ok ti sono messa citando dal scema così mia madre ora apre la porta io urlo eh you lo puoi vedere anche tu vero? no 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 non c'è niente dietro di me per favore non c'è niente dietro di me non c'è niente no non voglio vedere quello che c'è dietro di me anche se vuoi anche se vuoi c'è niente anche bello la live si è chiamata cosa ci sarà mai siamo no no loren mi vuoi solo molto male ma anche a voi va scatti la live ho solo nel mio telefono ditemi solo questa cosa e poi riparto amici ah che bene e non so come fare cosa chiudere che peccato nel momento migliore che cacchio succeda perché no c'è no c'è no no non ho niente aperto ho veramente tutto che uso che uso che bene ebbene perché non funziona perché non funziona meglio di così non riesco a fare è pc che sta giocando di salvarti dal gioco ma sta ancora scattando tanto perché adesso sul telefono va abbastanza non capisco vabbè ditemi se scatta ancora tanto se no provo a far ripartire la live quanto mori rimane scusatemi il gioco è fermo adesso proprio fermo ok ditemi sul telefono adesso va smooth l'ho messo in in 160 ok fatemi sapere con mia somma gioia fatemi sapere che così vado avanti yeah no tu sei fluid adesso c'è da vedere il gioco ok va bene ok prova e vediamo ok no come prova e vediamo allora c'era qualcosa dietro di te ok ho paura ho paura non sto guardando io amici mi cazzo sto diventando sempre più nera mi posso muovere oddio bene posso andare bene bene posso andare no 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 non volevo andarmene non volevo andarmene non volevo andarmene no non volevo andarmene porca merda stavo solo guardando che mi muovevo stavo solo guardando quello no amici io non ce la faccio io 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 sto male io ve lo dico non me ne volevo non di nuovo no no come non di nuovo ma io stavo male ho perso mia sorella è normale che io abbia una reazione irrazionale ho perso mia sorella per favore non abbiatecela tutti con me per favore e a quanto ho capito mia sorella era la fidanzata di Hiro quindi Hiro ha perso la propria fidanzata non abbiatecela né con me né con Hiro né con non voglio andare avanti oddio che al sera è andato no no ce ne siamo andati noi porca merda no 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 aspetta devo uscire no 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 me la gioco meglio sì no 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 ma intanto posso andare a vedere nelle altre posti no qui è sempre tutto uguale Sairan che sei la nostra Josephine no no e Josephine non ok no dobbiamo tornare in bagno ok ok questo riesco a vederlo va bene non succede niente non ci sono jumpscare tutto è angosciante però ok sono io e quando si gira così comunque anche se l'ho già vista porca puttana comunque Mel si merita di non vedermi me in questo momento impara a arrivare in ritardo sei tu sei tu Gino sei no no sì lo puoi vedere anche te qualcosa dietro di te Gino Gino perché perché sembri così spaventato ma vedi un po' c'è una cazzo di cazzo dietro la serie francese su un angelo che coppina come fai te figlio tutto tutto va bene è tutto ok ora no credo perché perché sembri così spaventato devo guardare dietro di me no devo guardare nello specchio no per favore Gino è tutto ok devo guardare nello specchio oh oh ho intravisto qualcosa ok che cazzo di ansia che cos'è la mia ansia quella Gino perché perché fallo eh ho visto nello specchio ma mo che ho visto nello specchio sto avvicinando sempre di più sto capendo se si stiano avvicinando sempre di più i cosini eh e adesso Gino è tutto ok io ho paura che se adesso me ne vado ah Gino perché perché sembri così spaventato no resta in infatti non sto capendo ma credo credo che quella cosa sia la nostra ansia o la nostra o quella di base eh quindi cosa facciamo usciamo ce ne andiamo no vedi ancora questa cosa di non ok no non me ne vado eh vabbè lo ricarico lo ricarico prometto che lo ricarico come faccio ad aiutarti ho visto nello specchio ho visto tutto devo andare a chiamare Kel ah vediamo un attimo una cosa spaventato ma sei impossibile è passato e Gino credo che sia il tempo di me ok grazie a Kel sei così gentile eh non è niente di ciao a Besol prova a tornarci insieme a Kel Basel Basel guys spero che sia allora dobbiamo arrivare a un modo per evitare che lui sia male perché non è normale se lui sta male ok c'è sempre la stessa storia bla 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 provo a ricaricarlo un'altra volta vediamo cosa succede se non riesco a trovare altre cose boh lo lasciamo lì mi spiace però perché veramente non capisco cosa io debba fare la stessa volta quella buona vai non fa più paura mi piace ho appena provato a chiamare quella disgraziata ma non ha risposto ma più che altro no vabbè al di là di lei che non risponde va bene non capisco cosa io debba fare forse con i fiori c'è qualcos'altro con cui devo interagire oltre lo specchio adesso guardo tutto brava a me che ho salvato in un punto recente brava a me brava a me ma perché mi spiace veramente per Bezos vedi che sta male quindi Gino perché perché se mi è scato Gino tutto ok no ok ok io non so che dirti grazie allora noi vediamo questa cosa siamo impassibili di fronte a questa cosa gabinetto il libro non possiamo interagire con niente il tappeto non c'è solo con lo specchio non posso pocket toys come la granny sma non ho portato la medicina alla nonna porca vacca dal foto album ma qua non ha senso Gino perché mi sono mangiato mi sono mangiato una pie non posso fare il tracollo emotivo il tracollo emotivo probabilmente ma io non so cosa fare va va ok Gino ok ecco il mio address address come si dice indirizzo thank you per bello andiamo a portare la medicina alla nonna intanto salviamo no non salviamo ancora va magari torna torna arriva mi dice mi dice cosa fa forse dalla nonna non ci possiamo andare adesso ho l'impressione che dorma la nonna e vabbè dalla nonna ci andremo era di qua a casa mia qui ci abitava la tipa ma questa è casa mia dobbiamo portare che la casa sua hanno tolto di qua allora non posso entrare in chiesa ah no ho sbagliato dobbiamo salire ancora di un mamma mia se scatticchia è proprio anche qua scatticchia ve lo dico si sto correndo perché non c'è non c'è wait aspetta è un po' che non si si devo andare a casa mia ok salviamo io ho perso roba e fa niente save ehi se non ti dispiace tornerò domani ok ok se mi dici che torni tu io ti aprirò buonanotte geno buonanotte no non ci sto aprendo la casa che cazzo sta succedendo amici io non sto guardando sono ragni oh no 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 sto scherzando hai ma io ma scusate no ma 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 Perchè? Ci sono dei ragni Eh, riconosci ancora casa tua? Mi schiaccio No, amici, perchè non... No, io non voglio giocare a questo gioco maledetto Porca di quella puttana Ok Io lo disinstallo, è stato bello Basta Dopo questo Il mio coltello! Aspetta, 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 aspetta Ok, ok, ce l'ho Fanculo Il mio coltello deve essere mio Tante F4 passiamo a se arriva a lei Guarda, sono molto tentata Ok Ok Cosa vuoi uscire a dire? Perchè l'accederlo? Oh merda L'ho visto adesso l'occhio Che cazzo è? Lacci di nuovo l'occhio e c'è una porta Non ci passo? Non ci passo? Sì E intanto Sono vecchio Non voglio sentire Queste scale che siano sempre più Nooo Gioco È un gioco in pixel Non è una tarantola vera Non sono raggi veri Non li sono Si sta cazzo avvicinando Porca merda Sono morta Cazzo Io Io Veramente Un saluto Al Kurochi che va su Halo No no Non ti fermare Gino Devi andare in camera tua Porca Ma se scendo Non mi fa più tornare indietro Quindi devo andare solo avanti Ah fra l'altro io ho l'Hero's Gift Ah Kurochi Eh scusate lo sapete che io non so Non so toglierlo Ok Ciao Occhio Prego Prego Non fai un scherzo No Mari no Non voglio vedere Non ho guardato Non ho guardato Io ho chiuso gli occhi Ok noi abbiamo paura di nostra sorella Vedo ecco il fatto che è successo Porca Puttana Eva Speravo fosse passato Legge no Vi odio Che ca... Perchè sto vedendo sto schifo Perchè E' un ragno E' la sorella E' 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 Che cazzo Per favore calmati Ok Bravo E allora run Non posso fare niente Carino Non gli fa niente Quindi cosa posso fare Quindi cosa posso fare Ah ah Gino Ma vaffanculo Incubi ne abbiamo Porca merda Calmandomi mi torna la vita Forse dovevo rimanere spaventato Per riuscire Ok Ok Devo continuare Focus Dai Dai Gino Tornate a casa nostra C'è il bagno C'è il bagno Perché c'era quel suono Andiamo Andiamo a dormire Certo che voglio andare a dormire No queste cose Vuoi dormire Per favore Ok Oh Yasumi Bravo Dormi Dormi Oh no Bezze se ne va Porta se ne va Secondo me Secondo me Non abbiamo fatto qualcosa Di importante Bezze non doveva rimanere In quel bagno Dio 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 Che cazzo di ansia Ma perché Devo fare le cose No not again Ok Ok Ti prego Ti prego Ok 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 Il cachebook Sì Voglio vedere Ci sono altri segni Non me ne ricordo Non me ne ricordo Non parlo C'è già la porta Stavolta Poi le troverò Tutte Ciao Sinfi Abbiamo appena passato Un momento catartico A dir poco La luce Io voglio vedere Non ci vediamo E mi pare Più scura Del solito Però Però È la porta Sì Certo Certo Non voglio stare Qui dentro Ti prego Fai che sia un posto migliore Fai che siamo tornati Al posto bello Per favore Meno male Omori Omori È vero Loro qui ci chiamano Omori Ero assolutamente Tanto abituato A Gino Omori Ben tornato Ma tutto bene Amori Ci siamo preoccupati Per te Ora che siamo qui Andiamo a cercare Andiamo a cercare Base Sto raccontando su di noi Abbi pazienza A Kel Dobbiamo essere sicuri Che Omori Stia bene Oh forse Due No No Non andate Ve ne rimaniamo in quattro Ma io moro Andiamo Andiamo Io e te Solo io e te Ehi Non puoi lasciarci così Sì siamo parte del team Eh appunto Bravo Ero Siamo più forti Ehi Omori No 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 io non ti proteggo Oh Che trovo Welcome back Spazio sicuro Sì che poi Non so quanto sia Non spazio sicuro Dai Forza Obri Andiamo Andiamo a dir Amari Che Omori Sta bene Lo sai Come si preoccupa Sempre di lui Per lui Ok ok Va bene Stavo cercando Solo di Aspettarmi un po' Ok Siamo Mi stavo veramente Dai i soldi Ok grazie 650 clan Aspetta 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 Qui c'è un'altra roba Avenger Maffipillo Ok Eh ma Eh ma Non me lo fai prendere Eh Chi c'è Di qualcuno Di familiare Ma Dov'è che rimaneva La casa di Oh non mi ricordo Era la Come era la Mappa Ok Devo andare a casa Di Peso Che mi ha detto Oddio Oddio Oh boy Oh boy Oddio 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 Fate passare Oh boy Oddio Va bene Grazie Abbiamo capito Di qua non possiamo Andarci Grazie Va bene Pre gentili Non era di qua a casa di Bezo Una foto con candele Eh sarà la foto di Mari Mi auguro se la foto di Mari Non la foto di Bezo Mari Ok Ehi Mari Guarda Omori è qua Omori Non so la sorella che è morta Ma dire mai più così Perché il mio Il mio cuore non ce la può fare Quindi non c'è ancora Sogno di Bezo eh Dove potrebbe essere Non ne siamo sicuri L'abbiamo cercato dovunque Non ancora niente Spero che Bezo sia ok Mi manca un sacco Mi manca Sentirlo parlare di tutto ciò che mi interessa Eh like all the flower stuff And photo stuff And art stuff And reading stuff Ma non conosci solo la parola stuff Ok My hair is so pangly Oh Che cari Omori Will you brush it for Oh Omori ha una cotta Per noi Oh no Eww Che Ok You should probably wash your hands But anyway Infatti Soprattutto in questo periodo Laviamoci tutti le mani Per favore Eh Laviamoci le mani Ehm Non dobbiamo essere positivi Dobbiamo Dobbiamo essere come Bezo Anche quando è Sotto tono Sorride Sorride Sì Quindi c'è qualcosa No Is there anyway C'era qualche posto che non avete ancora visto Beh c'è la foresta Dallo stamp Ma No No I ragni Non voglio Ehm Punto Hiro No Ehm Ancora una volta Dovrai Sconfiggere le tue paure Fratellino E anche tu Hiro Dai Fratellone Non puoi Non puoi Tirarti indietro Adesso Ehm E su Come anche Omori Vi so Vi supporteremo Ok Ahah Sono Non vi preoccupate I'll smash it out of the way Non vi dimenticate me Io sarò sempre Qui Ahia Quindi praticamente Vabbè Lei è morta E va bene Ok Lei è morta E va bene Ehm Carino Possiamo fare Il picnic Let's see There's Daisy Then there's Snap And then Happy And Brown Non puoi Nole Cosa fai Kel Niente Sto cercando di ricordarmi I nomi di tutti Non sai i nomi di tutti Come puoi Come puoi Fai ciao Ehm Mi spiace Ok Non c'è solo divertirmi Stiamo divertendo No I nomi di tutti Sono una cosa secondaria Ok Kel Anzi Tu rendi Anzi Ti chiamerò Ok Kelp Kelp È una specie di Erba Tipo un'alga La Kelp Mio soccorso Dizionario in inglese Kelp Kelp È l'alga Perché sono un genio Ok Quindi Dora innanzi Kel Si chiamerà Kelp Kelp Ok Ok Si diventa Oh no È un tratto di famiglia Sì Ci sto lavorando Per alcuni è naturale Ma per altri È una Abilità Da imparare Non abbiamo tutti La memoria Di omori Ok Ora abbiamo fatto Il picnic Ora voglio salvare Oh Ah ma questo è quello Ok Ed è una sci Ma questa è palesemente La ledi nera Di Di Sailor Moon Ok Ok Ci vediamo Come on van Ok 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 Siamo sempre tutti qui E' una banana. Allora, sono sempre là. Oh no, aspetta. Oh, non è Iroh. Infatti, vedi che mi ricordavo. Sì, vai. Quindi. Candy. Oh, apple juice. Apple juice. Oh no. Ok, grazie, arrivederci. Oh, non volevo richiamarti. Vabbè. Ok. Ciao. Sembra un perfetto... E sì, vai... Oh no, ma come? E quindi non possiamo andare di qua. Dove dobbiamo andare? E' tutto chiuso. Dobbiamo tornare su, allora. Oh no. Eh sì. Muoviamo da sole. Oh boy, oh boy. Ho aspettato per così tanto tempo. È un giorno bellissimo. Ah, e se ne vanno. Ok. Oh yeah, oh yeah. Eliza and Grand Princess. Ok, sì, andiamo da sweetheart. Per contenermi in questo show sicuramente sarà elettrificante. E' elettrificante, sì. Vabbè. E' elettrizzante, non è elettrificante. Nessuno verrà elettrificante. Odio, odio, odio. We must hurry. Our four four row show tickets are... Oh no, sono quattro. Now, dove dobbiamo andare? Perché? Vabbè, appacchiamole. Ma no, ma perché dobbiamo attaccarli? Sono carini. Mi fa fuggire, dobbiamo attaccarli per forza. Vaffanculo. Vabbè, uno. Spero che lo è coltello. Nooo. Au. Au. Ho capito, si stanno facendo male loro però. E gli stiamo fregando i... Così? Ok, blam 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 blam. Blam. Oh. Dritto al cuore. Che male che fai però questa cosa. Sono carini, sì, però. Sembrano dei pseudo-vudo che non ce ne hanno creduto abbastanza. Ma no, ma figurati, vai. Tanto li attacchiamo così e via. Morto. Morto. Fatto. Ok, gli abbiamo fregato i cosi. E... Ah, hai trovato il show tickets. Ok, dobbiamo andare. Oh. Ho lasciato il show tickets. Vado a vedere. Oh, se non è Kante, dog, su selfie jane, Hebrews Pito. Ahhhh! Non è like界 bah. Sììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì! O SE No, di qua torneremo indietro Infatti no Stiamo andando dalla parte sbagliata No, però bloccavano questa strada Quindi sì, dobbiamo andare di qua Vero? Vabbè Vabbè Scusatemi Stavo pensando a come possa fare Oddio Come possa un Un gioco come Mori Essere così carino Che così Tremendo Ah, è vero But certificate Certificate No, mi sbaglio sempre Secondo me abbiamo sbagliato strada Io ve lo dico Forse là vedo un ragno Dobbiamo salire lassù Vabbè Salve Goombo Happy Beh, c'è la tizia che è super Hi Sì Complete Front Ok Eh sì, ma dove devo andare? Scusatemi Continua a cliccare il tasto sbagliato Ok Sarei lì Siamo sempre noi Ok Allora Andiamo a vedere la tizia Ecco qua Volevo entrare qua dentro Alla tizia Ehi Caccaci Hai impessi I love sweetheart Ok Devi dire dove Devo andare A prendere Sì va bene Ci avevi già detto Questa cosa Mi dici dove deve essere Per favore Per favore Mamma mia Quanta parte No Non ci dice dove sarà Era la Era la Ok Va bene Va bene va bene Di là si va Nella cosa Ma non Ma non Ma non ha senso Adesso andare di là Stiamo sicuramente Sbagliando strada Probabilmente Abbiamo veramente Sbagliato strada All'altra parte Torniamo indietro Dobbiamo andare di là Perché Questo era tutto il giro Che abbiamo fatto Seguendo Basil Sì Eravamo Da so Uh Stranger Grazie per aver pari Mi spiace Ma ti posso chiedere Una cosa Ok I miei 3 Non 3 Sono Krauss Ok 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 Oh I'm just sick And the mud No Quindi dobbiamo Cercare questi Krauss Ma saranno Qui per qui Ok Smores Non volevo Ma sono Dei Dei mandarini Volanti Con Un'antenna Ok Sono Degli UFO No Oddio Ma muoiono In frettissima Oh Mi spiace Au Però Quano male Au Vedere che Kel È l'unico Che Kel Aspettavo Qualcosa Di più Da te Non volevo Attaccare Tutti Con Omori Con quel Coltello È Inaudito Volevo Cercare Un po' Questi Krauss Oh Non è Lo sky Beautiful Non è Lo sky Beautiful Il mio Cervello È bello Il cielo È bello Vedere Sapere Che ci sono Così Tante persone Fuori A fuori Che possono Condivinare Il mio Sesso Più Messa Vista Il senso Di Non volevo No Voglio Fogli No No Io me ne vado Chi Fai Ferma Lì E noi Fuggiamo Via Ok Bravissima Ce ne erano Sette Uh Là c'è un'altra Ah perché Quando eravamo In giro Non mi sono Ma quindi Questa è proprio Un'altra zona Che non abbiamo Visitato Ora possiamo Visita Salve Signora Come volta Infatti Che è il Bravo Ti Grazie Grazie È più Un fastidio Più delle volte Però Sicuramente Una buona vista Dele stelle Cosa Essere alti Non è un fastidio Tutto è più bello Quando si è alti Un giorno Sarò alta Come bene Di sicuro Che Che Credici Credici Signorita Come l'altro No No Che Cazzo No Aiuto Un aereo No Ti muovi Mi rinco Ma va Ma non voglio Lottare Contro un aereo Gigante Ma no Uh Là ce n'è uno Andiamo Che palle E quindi Sono in questa Zona Dobbiamo Cercarli In questa Zona Allora Finiamo Questa Cosa Ehi Bravo Non vuole Parle Con te Ok Più Charming No No Dai Sì Lo sapevo Hey Buddy Vuoi Che ti porti Indietro Adesso Dove Il mio Friend Il mio Friend Portami Il mio Friend Ok Vedi Quindi deve Farlo Lui Continuiamo A girare Alla Ricerca Di questi Crows Ok Uno c'è Dobbiamo cercare Gli altri Due Guarda Guarda Dove eravamo Prima Oh Ma porca Vacca No Non voglio Combattere Contro Ste cose Via Via La polizia Di là Ci sanno Già Passato Ma Ma Va Velocissimo Questo Quanto Brutto Però Allora In sotto In sotto E il termine Tecnico Oh No Ah Non ci fa Entrare Stavolta Bastardi Passata L'altra Volta Vieni No Via 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 Qui ci sono Andate Oh 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 Salve Oh Hi Non ti ho riconosciuto È così Buio Qua Io Volevo Sempre Cioè Da un po' Che volevo Ringraziarti Per il tempo Che hai Mi hai aiutato In quel Territo Prendi questo Fat Peach Soda Ok Ok Go Hiro Ok Dove siamo Amici Stiamo Ok Ok Lai Lai c'è Lai c'è Ok Eh E perché Allora mi attaccate Sprout Maul Della fava Siete così Intelligenti Ah Qui si può andare Solo di qua Di qua Ok Qua Oh Lampada Va bene That Badger Uh Ok Mi auguro Si ricordi ancora Di te Di un po' Vedo un po' Lei Spero andare giù Ah ok Speravo un po' Di più Eh Però vabbè Greetings Eh Ok È piccola È umile Ma è anche Va bene È stato facile Persi Troppo Ecco Dobbiamo cercare Questi Fantomatici 3 2 Ormai Eccole Un altro Ehi la Salve Hey there Little guy Manchi No No Ma io non ti ho Chiamato Muoio Io non ho più parole Per questo Brutto Sì Dai Dai Per favore Se non hai troppo disturbo Mi manca anche a me Bene Portato Però ci manca l'ultimo Allerme No No Non voglio lottare Contro i cosi cattivi Ah Siamo tornati Ok Ma mi sa che qui Non ci sia Halloween No No Non voglio fare Il moonwalk Qual è la password No No Mi sa che sia ancora là Oddio Ah Si colpì Proviamo Vai Quante Voglio vedere se ci dà qualcosa di bello Pimini Pimini No Abbiamo tolto più della metà della vita Dai Dovremmo farla fuori con questo giro Mamma mia Che male che fai con quel coltello Giustamente As Hero's party Was victorious J9x Pimini O moris a livella E ha imparato Hack away Obri Film Film Oh Solo No E quindi Scusami E quindi Oddio 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 Tutti hanno BASTA Niente E hanno paura tutti di annegare Ok va bene Volevo entrare Una messaggia Sì che lo voglio leggere Quando la Muna La Muna Quando la Luna Colpirà i tuoi occhi Come una Grande pizza Quello è amore Oh no Vabbè Tu cosa sei Lomi 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 Ok No non mi vuole Sto cercando uno scherco Ah ma sì Mi ricordo dove siamo Cioè mi ricordo Di questa zona No 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 Torniamo dagli scherco Dai finiamo gli scherco E' veloce Ma ci sono In faccia No No E poi meno Se riusciamo a trovarlo L'ultimo Poi secondo me Si rimane E qua E' tono Qui andiamo nella vecchia casa E qua non c'è Vai via La signora altissima Non c'era Eccolo Sì Greetings Sì Andiamo Andiamo Ok bene Allora Torniamo dal signor L'abbiamo trovati tutti Sono stati bravissimi Infatti Yeah My friends Benvenuti tutti Grazie Ti ringrazio Non vi ringrazierò mai Abbastanza Ora Andiamo Andiamo Arrivederci Spero di vederti Presto Addio Ok Va bene Andiamo da mari Torniamo dietro E direi che per oggi Ci siamo fatti Un bellissimo Giro Eh E poi scopriremo Dove è sto cacchio di teatro Dove è tutto Salvare Salva Ho iniziato prima Così finisco un po' Sempre bello Questa cosa Curba Ok In realtà Blah 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 Bene Mary Poppies Aspetta L'ho salvato Vero Ok Voglio essere sicura Per non rischiare Dai dai Che siamo ancora vivi Esatto Esatto Siamo vivi Senza l'aiuto di Mel Perfetto No Bene Direi che È stata una serata Intensa Sono pure tirata sulle maniche Di qua Vedo Bene Direi che possiamo Andarcene a dormire Siamo stati bravi Guardo se vi posso mandarla A qualche parte Manderò da Ma io non vi ci mando Da Tagishi Che c'è quel culo di Luca No Io vi mando da Gabrielone Bello Però vi mando da Gabrielone Che è più bello Se Se Ancora No Aspetta Ok Ok Gabriel Domino Buonanotte Belli A presto Salutate Gabriel Ditegli che la Ragli Vuole tanto bene E Ci vediamo Presto Presto Non so quando Però Ok Ok Buonanotte Belli Buonanotte Buonanotte Grazie a tutti Buonanotte Buonanotte Grazie a tutti